mezzo pilo 500 grammi ma è della zona e locale è una di qui sembra un cervello metterci la carne 500 grammi no, così se stanno troppo sembra finito tiriamo la penna alle quattro se no ci vuole un metro basta mettere anche il palmo della mano vicino no, è troppo il primo piano no, sarà anche 12-13 cm 12-13 cm per un'altezza di questa è una penna così è 12-13 cm così sarà 8 cm 9 alza e fa vedere il viso la buca qui è mezzo di anche l'indirizzo della buca non te l'ha detto preciso dove l'ha trovato no dico no tartufo di San Mignato San Mignato non è colline San Mignatese colline San Mignatese però potevi insistere fatti di dovere se non lo dicano quanti cani c'è? tre, quattro siamo stati anche una volta per una volta a Valeria si parla un cane come un tartufo di cera finita una parte che c'è adesso io